Sono stati ripristinati nel giro di una mattinata gli arredi dell'area verde inaugurata neanche 15 giorni fa nei pressi del sentiero Valtellina all'altezza della zona Pentagono a Bormio. Il 20 luglio scorso la presentazione, ieri complice l'assenza di visitatori a causa delle forti piogge, l'atto incivile di qualche vandalo che deve aver pensato bene di dimostrare tutto il proprio vigore accanendosi sui cartelli segnaletici posti ad indicazione del percorso. Ma l'idiozia non è mai troppa e così quello stesso vandalo ha poi rivolto la propria attenzione verso una delle aree giochi radendola al suolo. E pensare che l'intera zona era stata concepita dal comune di Bormio per venire incontro alle esigenze delle famiglie, dei turisti, quegli stessi turisti che tanto bene fanno a questa nostra provincia, segnata qualche volta da atti difficili da comprendere, come quello di ieri. Questa mattina l'intervento degli operai del comune che hanno provveduto a riparare e ricollocare quegli arredi realizzati con tanta buona volontà utilizzando legnami locali in un luogo in cui sorge anche un percorso sensoriale, giochi di abilità, un campeto da green volley ed una porta da calcetto. Ieri pomeriggio, quando c'è stato il temporale, qualcuno è entrato nel parco giochi e ha tolto, ha divelto i cartelli, quelli di spiegazione dei vari giochi, hanno buttato in terra i giochi singoli, legni singoli, non ovviamente quelli pesanti o quelli che sono assemblati assieme. Il gesto è stato un po' deprecabile proprio per il fatto che non va a rispettare chi ha sistemato i giochi, chi ha fatto il lavoro, gli utenti stessi dei giochi perché vuol dire che rovinare in quel modo vuol dire che i giochi stessi non possono essere utilizzati o usufruiti. Stamattina noi abbiamo ripristinato il tutto e risistemato la zona del nuovo parco giochi. La speranza è ora che le telecamere di videosorveglianza abbiano catturato qualche immagine del simpatico bontempone. L'inciviltà purtroppo con il sole o con la pioggia non passa mai di moda.